Oggi Natale porterà gioia e serenità, senti un lieto scampanare, simbolo di felicità, senti nell'aria la magia, l'ultimismo, l'allegria, e felici con gli amici siamo in prestosa compagnia. Se la neve ti occa già e di te ti coprirà, nelle case unità si è la famiglia in armonia. Oggi il ricco porterà cibo e doni a chi non ha, se puoi toglierti di più, vai e portare anche tu, sempre più, sempre più. Adori loro che farai, più felice tu sarai, quanta gioia ti darà, dire Buon Natale, dire Buon Natale, dire Buon Natale, dire Buon Natale, un Buon Natale ognù avrà. Buon Natale, dire Buon Natale, Su, giù, qua, là, qualche gondio ci sarà, che le nostre frotto le berrà, qui vendere si può, imbrogliando solo un po' e incassiamo soldi a volontà. Su, giù, qua, là, qualche gondio ci sarà, che le nostre frotto le berrà, qui vendere si può, imbrogliando solo un po' e incassiamo soldi a volontà. Oh, su, giù, qua, là, qualche gondio ci sarà, che le nostre frotto le berrà, qui vendere si può, imbrogliando solo un po' e incassiamo soldi a volontà. Proprio nessuno ha bisogno di un asino. Su, su, ragazzino, ascolta noi, qui non troverai mai un comprator. Fai dritto così! Per questa via! Troverai un grande bandito! Troverai un grande bandito! Un banditore? Sì! E ora va via! Su, giù, qua, là, qualche gondio ci sarà, 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 una casa. Ti do una giustatina. Ora cerca di tenerle dritte. Solo cinquanta monete d'arte letto. Siete tutti ciechi. Si tratta di una bestia magnifica. Signori, come potete rifiutare un affare come questo? Bene, cinquantacinque. Devo averne cinquantacinque. Non cederò questa favolosa creatura per meno di cinquantacinque. Cinquantacinque. L'offerta è cinquantacinque. Grazie, amico mio. Ora, chi offre sessanta? Sessanta sarebbe musica per le mie orecchie. Sessanta. Sessanta monete d'argento. Chi offre di più? Bene, allora. Sessanta e due. Vettuto a quel fortunato acquirente per sessanta monete d'argento. Adesso, signori, il prossimo animale vi lascerà del tutto senza parole. Una stupenda cavalcatura di gran razza. Così rara, così. Cosa? Ehi, tu. Ehi, ragazze. Vattene via subito. Non ho tempo da perdere. Va via, via, dico. Ma la prego, signore. Quest'asino è in vendita. Questo è un mercato di cavalli, figliolo. Non ho tempo da perdere per un asino sparuto. Non è sparuto. È molto forte. È buono. È bravo. Il suo posto sarebbe la scuderia di un re. La scuderia di un re? Hai detto? Ma avete sentito, signori? A quanto pare oggi abbiamo con noi il principe degli asini. Il principe. E ora, notate questa bestia così muscolosa, dall'aspetto fiero e dal nobile cuore. Avanti, signori. Non esitate. Chi vuole iniziare le offerte con mille monete d'argento? Ma, ma osservate, amici miei, e noterete il pelo morbido, elucente e la coda. Questa è una coda? Smettila! Lasciagli la coda! Vi assicuro, signori. È più forte di un toro! Non ridere di lui! Andiamo, andiamo! Muoviti, muoviti! Scendi, scendi! Ah, che asino! L'asino del re! Porta via immediatamente quell'orribile bestiaggia! E adesso, signori, adesso che ci siamo divertiti e liberati dell'asino del re, vorrei attirare la vostra attenzione su un cavallo veramente eccezionale, perfetto dalla punta del naso all'ultimo pelo della coda. Mi dispiace, piccolo. Mi dispiace, piccolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti posso offrire solo una moneta d'argento. Lo so che è molto poco. No, va bene. Voglio soltanto che Piccolo abbia una buona casa. Certo, figliuolo. L'avrà. Lo tratterò bene, non temere. Addio, piccolo. Sii forte e saldo sulle gambe. E segui il tuo nuovo padrone. Andiamo, piccolo. Su, vieni. Addio. Lo so che è un po' di più. La mia vita è la mia vita. Ora tu l'hai e sei felice sapendo che c'è per il disegno divino un posto per te.